Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Ieri siamo stati da Ikea e vi faccio vedere che cosa abbiamo acquistato. C'erano i saldi, nel senso che tante cose erano in offerta, infatti alcune le ho prese perché mi servivano, altre no, le ho pagate a prezzo pieno. E poi c'era un buono, se non sbaglio, penso che dipendentemente dall'importo che facevate, c'era un buono di 3 euro sulla bottega svedese. Non so se era la spesa minima di 10 o di 15 euro, fatto sta che vi regalavano questi 3 euro qua. Noi non abbiamo comprato niente perché non ci serviva niente. Siamo andati all'Ikea di Padova, anche se secondo me, per chi è del Veneto, Padova e Brescia sono a metà via, nel senso che i chilometri più o meno sono quelli, cambia pochissimo. Però a me, sinceramente, ma anche a Numeroso ha detto la stessa cosa, pensiamo che quello di Brescia sia strutturato meglio, sia più in ordine, abbia più cose. L'unico problema è che c'è l'elnos attaccato, quindi abbiamo detto è domenica, ci sono anche i saldi e non ci muoviamo più. Infatti, secondo me, la scelta è stata azzeccatissima perché già c'era abbastanza pieno a Padova. Se fossimo andati a Brescia sarebbe stato veramente da mal di testa. Però, ecco, secondo me, tra le due è meglio Brescia. Poi, tra le altre, Brescia, secondo me, come strada è fatta meglio perché comunque poi l'entrata e l'uscita dell'autostrada sono abbastanza comode. Invece a Padova l'uscita è comodissima, però poi a rientrare è un po' un casino perché infatti tutte le volte noi andiamo a finire da un'altra parte ancora e, boh, non lo so. Tra le altre, poi a Brescia facciamo al ritorno spesso la tangenziale in modo da, diciamo, risparmiare i soldi dell'autostrada che comunque anche la tangenziale è comodissima. Comunque, veniamo a noi. Allora, ho preso, sapete che in scatola ho tutto nella vita io, no? Quindi ho preso un'altra scatola, ho questa confezione qui. La chiamano Samla. Volevo vedere se c'erano le misure per farvi capire, ma non c'è. Comunque, allora, se non sbaglio, perché qua ci sono una serie di Samla, in teoria no, coperchio e contenitore. Penso che questo sia quello da 2 euro, perché poi ho preso anche, aspettate, mi pareva di aver preso poca roba, infatti avevo dimenticato l'altra borsa. Perché poi vi stavo dicendo, appunto, che ho preso anche un altro contenitore, sempre loro lo chiamano Samla. Eccolo qui, ed è però questo qua più piccolino e questo è costato 80 centesimi. Poi ho preso questo qui, piccolo appunto, questa misura qui. E l'ho pagato, vediamo un po', un euro. Devo dire che sono comodi, specialmente per mettere varie robe dai trucchi. Io ne ho una in bagno sulla lavatrice, dove praticamente qua dentro ci sono tutti i miei trucchi che uso più spesso, dal fondotinta alle liner, al mascara, in modo che alla mattina rumo e trovo tutto. Poi ho preso questo tappeto qui, che mi avete già visto prenderlo rosa tempo fa. L'ho preso di questo fantastico colore verde. L'unica pecca è che rispetto a quell'altro in tessuto, è la plastichina qua sotto. E non è tanto adatto, secondo me, da metterci i piedi sopra dopo la doccia. Lo trovo più proprio da tappeto da casa, per intenderci. Mentre l'altro, quello tutto in tessuto, è molto comodo. Io, infatti, ne ho due e ne volevo prendere un altro, ma c'era solo un beggiolino e niente, non mi piaceva. Lo volevo un po' colorato, perché quegli altri, invece, tutto in tessuto, sono stra comodi, perché io ci metto i piedi sopra e mi si asciugano così, senza far fatica. Invece questo con la plastica sotto è più proprio da ornamento, chiamiamolo così. Comunque, fatto sta che era in offerta questo, e l'ho pagato 2,95 euro. Poi ho preso un'altra gruccia fatta così, perché per i pantaloni è stra comoda, in quanto voi ci mettete più di... Io di solito ne metto due qua, due qua, due qua, quindi avete una tacapanni già con sei pantaloni. Lo trovo di una comodità pazzesca, e tutte le volte appunto che vado la compro. Non c'è il nome, vediamo un po'... Il... sì, costa 2,65 euro, un po' per essere nel senso un appendino. Poi, visto che l'altra volta ci sono rimasti i scopettoni, questi qua, per il water, da qualche parte, non so se li abbiamo lasciati, non ci ricordiamo se li abbiamo lasciati alla cassa, oppure poi ci siamo fermati a prendere il caffè. Nel sistemare la spesa abbiamo appoggiato la roba sul bancone e probabilmente era là. Comunque, fatto sta che a questo giro ne ho presi due, li ho presi neri, perché li preferisco neri. E li ho pagati, vediamo un po'... Eccoli qui. 95 centesimi all'uno, mi sa che allora era un'offerta anch'essi qua, 1 euro e 92, quindi una miseria. Sapete che io li cambio come cambiasse lo spazzolino, per intenderci, ogni tot li butto via. Poi ho preso i sacchetti, penso siano grandi anche questi qua, ma sono i primi che ho trovato, sì, da 3 litri, mamma mia, che esagerata, questi neanche li userò così grandi, porca miseria. Comunque, questi qui, i sacchetti da congelatore, li ho trovati lì e ho detto prima che mi dimentico, li prendo e li metto nella borsa. Però, cioè, non ho neanche controllato, effettivamente sono enormi, comunque, vabbè, stesso. Gli ho pagati 1 euro e 60, quindi neanche poco. Poi mi sono presa un'altra borsettina per portarmi il mangiare al lavoro, questa qua, secondo me, è più grande. E l'ho vista, ho detto, ma si dai, gli do il cambio quella che ho, oppure a volte, quando appunto siamo in due che faccio da mangiare, sia per me, sia per mio amoroso, che poi magari andiamo in giro insieme, tipo in gita, tipo anche ieri ho fatto il budino e l'ho portato via per merenda, no, roba e così. Almeno qua ci sta più roba. O se no, ne abbiamo una a testa. Comunque ho fatto sa che costava una stupidata. L'ho pagata, infatti, 2 euro. Penso che, tipo anche quella di Primark sia stata così. Poi ho preso questo zaino fatto a sacca, di questo colore tipo marmo. E l'ho pagato, ma ma che complicato che sono questi scontrini qua, 3 euro e 95. Poi ho preso questa borsina qui, per fare la spesa, perché la trovo di una comodità pazzesca. Io non ce l'avevo, sempre quelle in tessuto, però che non diventano così sottile. E in alcune borse non ci stanno, devo dire. Cioè, mi occupano un sacco di posto per niente. Quindi ho detto, la voglio piccola e compatta. E l'ho pagata... Mamma mia... 95 centesimi. Quindi, una stupidata. Poi ho voluto provare, che però non penso di avere l'aspirapolvere giusto, però ho detto, vabbè, prendo una confezione e gli provo, i sacchi da sottovuoto, praticamente. Vedete, qua hanno dove mettere l'aspirapolvere, voi l'aspirate e va in sottovuoto. Perché ho delle cose che, effettivamente, secondo me, nell'armadio occupano troppo, 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 troppo posto. Quelle cose in pile, quelle felpe in pile, quei maglioni troppo grossi, secondo me occupano posto per niente. Ma anche per le stesse sciarpe, no? Quando poi si fa il cambio dell'armadio, ho un sacco pieno di sciarpe, guanti, cappelli, per niente. Invece qua, andate a riempire tutto quanto e, secondo me, siete a posto. E questo qui l'ho pagato, cioè, vi avanzano un sacco di posto in giro. 2,95€ ce ne sono due, quindi non poco, mi sono azzardata, appunto, a provarne un pacco solo, proprio per quel motivo lì, perché non sapendo. Ho ripreso i miei contenitori fantastici, soliti, stavolta ho detto, li prendo di un altro colore. Infatti ci sono o rosa o questi qua, verdi e azzurri. E li ho pagati, chi lo sa, perché qua è sempre un problema. E, babababà, 2,50€, se non sbaglio. Mentre poi la padella, l'ho pagata, visto che ce l'ho qua, 4,95€. No, vi ho detto una gran cavolata, ragazze. Allora, la padella, questa qui, costa 4,60€. Guardate che carina che è, l'ho presa per fare i pancake, per intenderci, perché secondo me è la grandezza giusta. 4,95€ è questo contenitore qua, gigante, quindi non costa un tubo. Vediamo, non c'è la capsi, sono 56€ per 39€ per 28€, sono 45 litri. Mentre questi contenitori qui, li ho pagati 2,50€, quindi una miseria. Dentro ce ne sono qua 5, no, 3, 3, sì, se non sbaglio. E questi sono i coperchi. Poi ho preso un altro contenitore, che praticamente, come vedete, ha vari scompartimenti. Ed è uno unico, perché volevo metterlo nel cassetto dei trucchi per avere tutto in ordine. Questo qui l'ho pagato, stavolta c'è il nome. 2,50€ anche di questo? Non lo so, ragazzi. Io vi dico un po' i nomi a caso. No, questo l'ho pagato 4,95€. Poi ho preso una candela. Questa qua era strana, perché diceva che era una candela ad acqua, fatto con una cascata di acqua. Non ho... Scusate. Non ho ben capito. Comunque la profumazione era molto buona. 1,50€. Poi ho ripreso un altro vasetto così, perché nell'altro vasetto, che avevo preso tempo fa, ci ho messo una pianta grassa. Ah, sì, tra l'altro ho visto adesso che è affatto diverso. Comunque, vabbè. Vorrei metterci un'altra piantina vicino, perché si facciano compagnia. Mi è venuto in questa mania qua, di avere sempre le cose accoppiate, in modo da farsi compagnia. Comunque, fatto sta che l'ho pagato 1,95€. Poi ho preso queste solite scatole da mettere sotto il letto, vedete? Ne ho prese due nere, per un costo di... Questo si chiama scuba? Sì. 4,95€ all'uno. E poi ho preso invece lo scuba, che sono 6 contenitori di varie misure, vedete? Neri, c'erano anche bianchi. Ce ne sono due da 14x14, due da 14x28 e altri due da 28x28. E questi qua li ho pagati, l'avevo appena visto, miseria. Set di 6, 6,95€. E basta. Pensavo di avere qualcos'altro. Oh, niente, ho finito. Vabbè, e sembrava che avessi tutto io. E invece niente, ho finito. Per un totale di 61,85€. Totale articoli 22. Sì, effettivamente ci sono alcune cose che costano, però... Comunque mi servivano. Anche perché questa scatola qua nera già adesso la metterò in uso. Bene ragazzi, questo è quanto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!